e perché stia a vincere tutto quanto non si dice se picchi no a vendersi fatti perci si fa una mano a me, io ce l'ho porto un po' tutto qui ma adesso io l'ho fatto questo, dove ho fatto? il giro? no, è 200 euro tutto 200 euro? ma questo ha scelto e tende e tu c'è un cittadino qua dentro e se volete, sarebbe una pizzezza un po' di ornità ma c'è un po' di ornità ma adesso si inizia in un po' di ornità ma che cosa? se non fa una pizzezza ma non è fatto il rosso ora qua sono stati fatti ma non è un mousse ma non è un po' di ornità ma non è un po' di ornità non mi chiappa tutto tutto animato, non lo so c'è boh non lo capisci ma poi nella sera fatti cazzo con questo indurzzato non ti sfruttate non va bene non va bene prima o poi si spessa si 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 va normale stripe da passare ci vuoi prendere le tace 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 perciugano perciugare quella any사 perciugare aguto le tace le tace le tace tiro poscere forno si perciugare forse sfoga facciamo Lui fai tutta uscita, e fai tutta a fine, tipo spag, che alla fine non mi attacca lì lì. Ah, che di cosa lì, non so. Il capanna. Come si chiama questa casa? Il capanna. Il capanna? Eh. Guarda, perché si chiama così? Il capanna. Eh, perché è pronto, chiamata chi? Perché si chiama il capanna? Eh, perché capanna, cosa si chiama? Il capanna. Guarda, che si chiama il capanna. Mamma mia, come si è fatta rossa? Ah, hai visto? Come si è fatta rossa? Una grandigione.